Nel piano industriale di Autostrade per l'Italia non c'è nessuna traccia della terza corsia tra le Marche e la Puglia. Per il prossimo quinquennio Aspi ha stabilito investimenti per 6,1 miliardi, il 110% in più rispetto al piano precedente. E' un nuovo corso per lasciarsi alle spalle la vicenda del Ponte Morandi di Genova, fanno sapere dalla società dei Benetton. 2 miliardi e mezzo saranno impiegati per la manutenzione, quasi 200 milioni per la digitalizzazione dell'azienda e sono previste 2.900 assunzioni entro il 2024. Nel piano però non è stata inclusa la terza corsia sul tratto centro-meridionale dell'A14, attesa da anni così da recuperare il gap infrastrutturale della fascia adriatica. Dal governatore Marsilio, che è coordinatore dell'impresa per lo sviluppo del corridoio adriatico, arriva un secco no al programma di Aspi. Marsilio ha scritto una lettera al presidente Conte e al ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, chiedendo che il governo respinga il piano industriale. La De Micheli infatti aveva annunciato, rispondendo a un question time alla Camera l'estate scorsa, che la terza corsia sarebbe arrivata anche in Abruzzo. Io ho scritto già al governo per chiedere di respingere questo piano, l'ho fatto anche in qualità di coordinatore dell'intesa dell'Adriatico centro-meridionale, cioè quella intesa che finisce le regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, perché per noi invece quella è un'infrastruttura strategica, della quale avevamo già chiesto al governo Conte di inserirla tra le infrastrutture strategiche, da finanziare anche con i fondi recovery fund, comunque con i fondi di cui il governo dispone, per fare in modo che questa fascia costiera adriatica possa avere un livello di infrastrutture paragonabile a quello della fascia tirrenica, per colmare il divario che si è accumulato da decenni rispetto al resto del Paese. Non possiamo attendere altri cinque anni solo per cominciarne a parlare, è adesso il tempo di farla e l'Abruzzo insieme alle altre regioni adriatiche pretende delle risposte chiare su questo. Per la società dei Benetton la terza corsia del tratto meridionale dell'A14 non è una priorità. Un veto sul piano industriale però è arrivato ieri dal Ministero. Da Roma è stato richiesto ad Aspi uno studio di fattibilità dell'opera, così che questa, una volta validata, possa essere inserita nel piano economico finanziario, da provare in forte ritardo nel giro di tre o sei mesi. Il tratto interessato dovrebbe essere quello tra Porto Sant'Elpidio e Giulianova.